Un anno e due mesi di reclusione con la pena sospesa. Questa è la sentenza emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di Bruno Andres Doglioli, il 41enne di origine argentina, ex tre quarti del Rugby Rangers Vicenza, finito a processo con l'accusa di lesioni volontarie nei confronti di Maria Beatrice Benvenuti, trentenne romana, all'epoca la più giovane arbitra internazionale della palla ovale. I fatti risalgono all'11 dicembre 2016, giorno in cui si disputava la partita di Serie A tra la squadra Vicentina e il Valsugana nell'impianto di Altichiero a Padova. Le immagini dell'accaduto avevano fatto il giro del mondo con il giocatore che, dopo alcuni diverbi con la trentenne, improvvisamente l'era piombato da dietro, colpendola con una spallata forte dei suoi oltre 100 kg. La partita era stata condotta a termine, il giocatore poi sospeso per tre anni dalla squadra e dalla federazione. Per lui la procura aveva chiesto una condanna a tre anni, il tribunale si è fermato a un anno e due mesi, respinta anche la richiesta di citare la squadra come responsabile civile.